20 tesi e terra asciutta, sebbene non sia tra le zone più colpite, anche l'oltrepò pavese sta pagando un caro prezzo alla interminabile siccità di quest'anno. Nei giorni scorsi, mentre ampie porzioni di boschi e radure bruciavano tra Como, Sondrio e Brescia, diversi incendi sono infatti stati segnalati anche in alta collina. Sabato una parte della riserva naturale Monte Alpe, in Valle Staffora, nel comune di Menconico, è stata distrutta dalle fiamme. Si tratta, secondo quanto hanno reso noto le sale operative di protezione civile e vigili del fuoco, di circa 3 ettari di foreste. Ma nei giorni precedenti, roghi sono divampati anche a Romagnese, dove è andato distrutto un castagneto sul lato destro del torrente Tidone e a Pietragavina, non lontano da Varsi. I sindaci parlano di una situazione disastrosa. Secondo il primo cittadino di Romagnese, Aurelio Bramanti, non sarebbe da escludere che dietro questa serie di incendi ci sia la mano di un piromane. Pensiamo, ha dichiarato al quotidiano Il Giorno, che possa trattarsi della stessa persona che già la scorsa estate aveva piccato.